Alicia Vikander affiancherà Tom Hanks nel suo prossimo film The Circle, un adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Eggers in libreria già da due anni. Il titolo del film è anche il nome della più potente internet company del mondo, al centro della trama, che gestisce la rete e le insegne della trasparenza. Diciamo che è una tappa importante nella carriera della 27enne attrice svedese. Dopo la presenza nei recenti Il settimo figlio ed Ex Machina, la Vikander ha ben cinque film in arrivo, tra i quali The Man From UNCLE, in uscita quest'estate di Guy Ritchie, The Danish Girl con il premio Oscar Eddie Redmayne e Tulip Fever con Cara De La Vigne e Christoph Waltz. E brava, e bravi anche voi che ci avete seguiti e ancora di più se già vi siete iscritti al canale. Grazie al prossimo video, ciao a tutti!